oggi ragazzi useremo tutte le armi che abbiamo nel cassetto della stanza iniziale contro la sua contro la suora iniziamo noi sento tutto quello che fai e va bene ok easter egg vabbè non mi interessa aspetta ma che ho modificato lingua no è italiano boh sarà un bug la prima arma e la bambola esplosiva la mente non la posso ricaricare perché la connessione internet non ce l'ho ciao suora oh mamma oh la suora ragazzi dobbiamo trovare la bibbia definitiva ma non so dove cioè dove possiamo trovarla ragazzi ho visto la suora mi vanno a giocare senza multimedia è un incubo perché tu non sai mai se ce l'hai dietro piccolo capo venita giuseppe suora venita giuseppe che giuseppe cosa fare i giri facciamo i giri dai c'è andiamo a sal leone con la mia dorata macchina ok ragazzi speriamo che qui troveremo la bibbia speriamo vediamo no la chiave gialla la chiave gialla allora la bibbia non si trova qui ok 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 forse sarà in segreteria non lo so vediamo se è in segreteria non è in segreteria vediamo se è nella camera da letto della suora si è nella camera da letto della suora suora ti rubo il tuo libro perdonami suora ecco di qua oh mamma ragazzi oggi la suora non mi vuol far giocare e il gioco si bugga spesso no 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 ragazzi devo seminare la suora perché devo prendere la dinamite e anche l'olio guardatela 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 mi non lo odio questo gioco lo odio prendiamo una dinamite una dinamite ho detto allora ora non facciamo la sua ramonella oh eccola qui la sua devo aspettare che l'ascensore salga ora su ora per favore aspettiamo che salga l'ascensore ok ragazzi prendiamo la nostra adorata babbola esplosiva e la facciamo esplodere prima dobbiamo aspettare che la sua sia qui vicino su ora su ora ragazzi dobbiamo aspettare che venga la suora ok 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 esplosa andiamo alla pistola di gomma spiegati su ora dai devi andare a scuola su ora devi andare a scuola ecco qua si è svegliata buongiorno amore mio oh mamma ecco qui guardate quanto è buffo ok la pistola di gomma è finita adesso ci mancano le scarpe da ginnastica però mi servono le lattine oh 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 l'effetto della gomma è finito no 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 l'effetto della gomma è finito su ora sei brutta e cattiva sei brutta e cattiva scuola 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 da ginnastica della fretta la mettiamo qui nell'ascensore non c'è entrata ragazzi le potrò parli piedi di porco perché mi sa che le lattine le lattine con le palle da tennis mi sa che si trovano nel condotto bloccato su ora il condotto va bene il piede di porco si trova in cucina è in cucina per forza è per forza in cucina ok ho le lattine ho le lattine le devo solo mettere nell'ascensore la sua rintana è negli spogliatoi ok ragazzi ho paura che questa maledetta ragazzi non c'entrano le scarpe ragazzi non c'entrano le scarpe scuola compra un paio nuovo di scarpe per favore queste non sono della mia misura ok ragazzi dobbiamo aspettare 20 secondi ok la sola sta salendo ci ha visto ok ok perfetto secondo me la maschera non la dobbiamo usare perché non è proprio proprio un'arma su ora adesso sono velocissimo ecco di qua eccola la sola eccola guardami sola non riuscirai mai a prendermi ragazzi se giocate nella maledetta difficile volete imbrogliare usare le scarpe da ginnastica è il miglior modo per vingere su ora dai su ora prendimi prendimi dai facciamo qualche giritto ragazzi la maschera la usiamo o non la usiamo vabbè voglio finire tutto il cassetto quindi direi di usarlo si dai usiamolo usiamola dai mettiamola nel bunger e la ricarichiamo o la maschera o la maschera su ora però non è carnevale che metti le maschere a tutti ragazzi ha aperto la porta io la avevo chiusa era chiusa dai su ora vieni qui vieni qui su ora ok la su ora mi ha visto su ora ti trollo un pochino dai vieni da me su ora vieni da me eeeh 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 trolla tutta la vita nananana guardatela è rimasta lì negli spogliatori ora ti chiedo dentro saluta i ragazzi se vuoi ti chiedo dentro e noi ci vediamo al prossimo video